La prima grande gioia, non ci sono parole per descrivere tale felicità, non ti vedo però che oltre alle meravigliose emozioni che mi hai donato ho provato anche paure, ansie, angosce che ogni madre prova nell'esercitare la professione di genitore. Spero solo che sia io che tuo padre siamo riusciti a trasmetterti l'amore che proviamo. Oggi sei arrivato ad un punto fermo e concreto del tuo cammino che rappresenta quel meraviglioso e atteso traguardo. La tua laurea. È chiaro che è da qui che comincia il percorso più significativo e noi ti auguriamo che tu possa realizzare i tuoi obiettivi professionali e personali con gratificante soddisfazione. Ti ricordo che ogni volta che vorrai saremo sempre a un passo da te, pronti a sostenerti con l'amore. Amo e papà. Amo e papà. Bravo!